Eccoci qua, allora proveremo oggi a farci una chiacchierata sul concetto di interocezione ovviamente sarà una chiacchierata che descrive l'interocezione sulle sue, sugli aspetti costitutivi sia anatomici e aspetti eventualmente funzionali però ovviamente essendo diciamo qui tutti i professionisti, non faremo una lezione esclusivamente mirata a far sì che vengano descritti gli aspetti anatomici, come se fosse una lezione puramente di anatomia, non proveremo a creare qualche condizione diciamo di ragionamento clinico, spegnete le telecamere, Alessia Cannata spenga le telecamere, in modo tale che si possa fare qualche tipo di considerazione di tipo clinico, cioè a che serve sapere tutto questo da un punto di vista osteopatico. Pertanto direi di cominciare a partire dal presupposto di dove in effetti possiamo considerare l'elemento interocettivo come coadiuvante nel nostro ragionamento clinico. Partiamo dalla prima asserzione che è quella di Steele in cui praticamente nella descrizione della cosiddetta disfunzione somatica che lui è un termine che non ha mai usato, neanche quello di lesione, parlava di questa entità che non si sa che roba fosse e diceva trovate, fatela, aggiustatela e lasciatela sola. Ora non staremo qui a ragionare su quello che è il concetto di disfunzione somatica da un punto di vista del trattamento e quant'altro, perché facciamo subito una premessa, il conoscere gli aspetti dell'interocezione fondamentalmente è legato essenzialmente a fenomeni di tipo diagnostico, cioè a riconoscere praticamente ciò che non funziona, ciò che non va, piuttosto che pensare in termini di processi terapeutici, perché parliamoci chiaramente, noi sappiamo poco di cosa possa succedere con i processi terapeutici. In questo ambito invece noi dobbiamo insistere sugli aspetti di tipo diagnostico, cioè perché noi possiamo alla fine avere un effetto palpatorio diagnostico e riconoscere determinati tipi di aspetti, cioè perché possiamo avere il cosiddetto find it? Perché in effetti l'elemento centrale della diagnosi osteopatica è la messa in evidenza della cosiddetta disfunzione somatica, come ci è stato anche descritto da Nelson e da Glonek. La disfunzione somatica è un fenomeno legato a normalità della qualità del tono dei tessuti molli, delle disfunzioni somatiche che sono in pratica attivate da fibre, allora qui si descrive nella slide fibre primarie nocicettive, ma che vedremo probabilmente fanno parte di un sistema che non è solamente nocicettivo ma che è allargabile anche a altri fenomeni che vengono appunto dette fibre interocettive o sistema interocettivo. Queste fibre sono importantissime perché sono quelle che attivano, lo ripeteremo anche dopo, fenomeni di tipo infiammatorio, in pratica possono creare sia una possibilità con attività antidromica, cioè al contrario del loro andamento, vanno verso la periferia e generano fenomeni di tipo infiammatorio, sia sono in grado praticamente di attivare una risposta autonoma, in particolare tipo orto simpatico, per quanto riguarda i concetti di infiammazione, e determinare appunto l'insorgenza di fenomeni infiammatorio perifericamente. Perché diciamo questo? Perché poi alla fine, nelle grandi di tutto quello che è il risultato delle ricerche e quant'altro che si sono ripetute negli anni, a partire dagli anni 40, quindi con Denslow e Coor, fino ad arrivare adesso, quelli che sono le ultime tentativi di ricerca nell'ambito della disfunzione somatica, anche quelli che si sono sviluppate parallelamente, cioè che non centralmente con l'osteopatia, ma che possono essere incluse. Fate conto, per esempio, dello studio fatto sulla natura dei trigger point, quindi che sono fondamentalmente fenomeni, trigger point muscolari, che sono fenomeni di tipo infiammatorio, l'elemento di infiammazione neurogena diventa un elemento centrale nella diagnosi osteopatica, cioè fondamentalmente e probabilmente in qualche maniera, e faccio un ragionamento speculativo, la nostra capacità palpatoria va e mette in evidenza qualche fenomeno infiammatorio tessutale periferico che noi possiamo mettere in evidenza attraverso la capacità palpatoria che può essere sia sul movimento, quello che vuole sulla barriera, vabbè questi sono altri discorsi. Però diciamo che fondamentalmente la patogenesi di ciò che noi palpiamo, l'effetto finale, è ciò che deriva da un fenomeno di infiammazione neurodica. Anche in questo studio, in cui Fryer ha tentato di ripercorrere ciò che è stato descritto da Enzo e Kaur, non ci riesce, però alla fine concludo dicendo che le investigazioni dovranno essere in qualche maniera indirizzate per la ricerca di fluidi nei tessuti e di mediatori infiammatori. Se facciamo un piccolo passo indietro, nel 1975, in un bellissimo articolo che tutti quanti dovreste leggere, che si chiama appunto Evidenze Fisiopatologiche della lesione osteopatica, cioè il conosciuto, lo sconosciuto e il controverso, proprio Denslow che fece questo articolo come una sorta di raccolta di quello che era stata la sua esperienza di tipo sperimentale e quindi di ricerca nell'ambito di disfunzione somatica, introduce il concetto di infiammazione neurogena, che è un concetto per il 1975, diciamo, per il 1975 è sicuramente un concetto assolutamente avanzato, cioè nel senso che era forse ai primordi, ma da quello che mi ricordo, le prime asserzioni di ricerca sull'infiammazione neurogena sono della metà degli anni Ottanta, quindi con buon anticipo e probabilmente sulla base della sua grandissima capacità palpatoria lui era riuscito a introdurre questo concetto di infiammazione neurogena all'interno praticamente di quella che era disfunzione somatica. Fondamentalmente una grandissima intuizione perché dal punto di vista palpatorio aveva intuito che ciò che si sentiva era una sorta di segregazione fluidica periferica che è classica dei fenomeni infiammatori, cioè per esempio la permeabilità capillare periferica, tutto ciò che in pratica è legato ai fenomeni tipo infiammatori. Quindi l'infiammazione neurogena è l'elemento centrale della nostra prassi ripeto diagnostica e quindi a questo punto dobbiamo conoscere un po' meglio ciò che sono i fenomeni, quali sono i fenomeni che stanno alla base dell'attività di infiammazione neurogena. È un elemento centrale che è venuto a identificarsi negli ultimi sicuramente 20 anni oramai perché abbiamo il primo articolo degli inizi degli anni 2000 di Bud Craig in cui si comincia a descrivere il fenomeno interocettivo in maniera molto più definita. Da dove partiamo? Partiamo dal Sherrington, il quale aveva capito molte cose, altre per problemi probabilmente legate a problematiche di tipo tecnico, gli erano sfuggite ovviamente, qui siamo all'inizio del Novecento e lui fa la prima classificazione parlando della cosetta propriocezione, estrocezione e interocezione. Sherrington era molto interessato a studiare ciò che è la nostra attività sensoriale, cioè come noi percepiamo il mondo, per cui descrisse fenomeni di telocezione, cioè di percezione da lontano, tipo la vista, l'olfatto, l'udito, oppure fenomeni collegati al contatto, cioè al tatto, quindi contatto-tatto, per cui parlo di propriocezione, estrocezione e interocezione che arrivano dal corpo. Per l'estrocezione è evidente che il tatto svolga un ruolo fondamentale, la propriocezione è qualcosa di legato a tutto ciò che è recettore articolari, fusi neuromuscolari, certo quelle strutture che danno delle informazioni sulla nostra organizzazione, che poi diventa una sorta di capacità di percepire il corpo nello spazio, e poi introduce questo concetto di interocezione che però per Sherrington è molto più legato ai visceri, tant'è che ogni tanto qualcuno fa l'errore di scrivere enterocezione, perché ovviamente il sistema gastroenterico è fortemente innervato, però è riduttivo, cioè l'interocezione fa parte della interocezione. E proprio su questo concetto andremo a vedere invece come si è discostata nel tempo la ricerca da quello che era stata l'intuizione di Sherrington. In questa immagine ci sono tutta una serie di strutture, di trasduttori periferici. Facciamo una piccola chiosa sul fatto che noi percepiamo il mondo attraverso la capacità di trasdurre le energie che arrivano dal mondo, cioè quindi che adesso il nostro occhio fondamentalmente è un trasduttore di fotoni, cioè ci sono delle quantità fisiche, delle entità fisiche che vengono trasdotte. Quindi, che ne so, l'onda sonora è la capacità di percepire la compressione, la condensazione e la rarefazione dell'aria, praticamente, che arriva sotto forma di cosiddetta onda sonora, ma che di sonora non ha nulla fondamentalmente, ma è sonora solo perché diventerà suono in quanto contatto, praticamente, un trasduttore presente nel nostro organismo che, ovviamente, è il sistema dell'orecchio. Così come, per esempio, il sistema vestibolare non fa altro che trasdurre, praticamente, le cosiddette forze inerziali, di cui, per esempio, la forza di gravità è un elemento rilevante. Quindi, tutti questi aspetti ci fanno comprendere che noi percepiamo il mondo in rapporto alla nostra capacità percettiva, cioè all'espressività dei nostri sensi. Berson, che era un filosofo dalla fine dell'Ottocento, diceva che la realtà è l'espressione dei nostri sensi. Quindi noi parliamo di realtà perché fondamentalmente condividiamo i nostri sistemi recettoriali. Un esempio banale è quello che capita, per esempio, ai daltonici, che, non avendo la possibilità di avere certi tipi di funzionamento dei coni, percepiscono dei colori in maniera diversa. Per loro la realtà è quella, quindi non possiamo dire che c'è una realtà giusta. Dovevo staccare il microfono. Allora, per tornare a noi, quindi al discorso interocettivo in particolare, ci dobbiamo muovere in pratica sui sistemi che gestiscono l'estero-procezione e l'interocezione, che sono sistemi che vanno in parallelo. E qual è l'elemento che li rende paralleli? Allora, intanto non è più una telocezione, ma è qualcosa di approssimato, cioè che è vicino al corpo, che deve toccare il corpo, deve in qualche maniera essere, diciamo, proveniente dal corpo stesso e quindi non lo riceve il corpo, ma ci deve essere adiacente. Il tatto ce l'abbiamo finché qualcosa non ci tocca. Nel momento in cui si staccano non percepiamo più il tatto. Ora, questo tipo di sistema periferico è basato ovviamente su una serie di fibre che sono raccolte, che hanno un elemento centrale che spesso è, secondo me, non perfettamente messo in evidenza, che è quello dei gangli che sono derivati della cresta neurale. In questo caso parleremo dei gangli della radice rossale del sistema nervoso spinale, ma questo vale anche per i gangli del sistema dei nuclei encefalici, fate conto che sono il ganglio di gasser o quello che volete, il ganglio del faciale. Ora, come si organizzano, come sono organizzati queste strutture? Beh, allora, questa è un'immagine del Candel molto molto stilizzata, in cui si vede fondamentalmente un recettore periferico, in questo caso, se non vado errato, questo dovrebbe essere un recettore di pacini, quindi il quale praticamente con una sua fibra arriva sulla cellula ganglionare e poi arriva al midollo spinale. Ora, in questo percorso, intanto bisogna cominciare un attimo a stabilire che tipo di fibra è questa, perché spesso a volte si può sentire parlare di assoni e quant'altro. In realtà questo è un dendrite, cioè questo è un dendrite di quale cellula? Della cellula del ganglio, che è presente in questo caso al livello del, al di fuori del miolo spinale, perché è un derivato di cresta neurale e si trova praticamente nel forame di coniugazione. Quindi c'è una cellula praticamente che viene spesso chiamata pseudo-unipolare e quant'altro, ma che vedete qui è detta anche AT, solo che questo tipo di stilizzazione di immagine determina qualche piccola confusione. Andiamo un attimo a vedere. Questo è il ganglio di cui stavamo discutendo e la presenza quindi nel ganglio sono delle cellule. Queste cellule sono derivate dalle creste neurali e dipendono quindi da un particolar tipo di organizzazione embriologica che non stiamo qui a descrivere, segnalate il fatto derivati dalle creste neurali. Quindi vuol dire che sono quei neuroni che durante lo sviluppo, quei neuroni, quindi quelle cellule ectodermiche che poi vanno a finire nel tubo neurale, che si staccano dal tubo neurale, quindi abbandonano, non completamente perché poi rimangono le connessioni, ma lasciano praticamente il sistema e il tubo neurale, quindi sono dei neuroni che vengono, che si possono trovare al di fuori del tubo neurale. Questo che cosa significa? Significa che la periferia tessutale che noi abbiamo non è collegata direttamente con il midollo spinale, quindi col tubo neurale in generale, questo vale anche per il trigemio, quindi non vale solo per il midollo spinale, ma viene connessa attraverso l'intermediazione delle cellule della cresta neurale, le quali non sono strutture inerti, ma hanno praticamente una possibilità di svolgere delle funzioni. Non è il caso di oggi, ma per esempio si potrebbe cominciare a pensare che la facilitazione, i primi fenomeni di facilitazione sono proprio a livello del sistema delle cellule gangliari. Tutte le informazioni che arrivano dalla cute, qua si parla di cute, muscoli, articolazioni e quindi automaticamente, probabilmente ci si riferisce soprattutto al sistema estero-propriocettivo. Vanno a finire praticamente in questa struttura qui. Quindi vedete qui nell'immagine sembra come se ci fosse questa sorta di grande connessione, qui c'è una sorta di passaggio che poi arriva direttamente al corno posteriore. Però le cose sono in maniera un po' diversa. In questa immagine vedete che la cellula gangliare è disegnata in maniera diversa. Vedete, c'è un po' questo andamento. Ed è questo il modo in cui la disegnava Ramonica Gal, che è stato in pratica lo scopritore delle sinapsi, cioè il grande innovatore nell'ambito, insieme a Golgi praticamente, di ciò che era attraverso la capacità di colorazione delle fibre, la capacità di scoprire che ci sono delle celle, ma addirittura che i nostri nervi sono interrotti e che, meglio, le nostre fibre nervose sono interrotte e la comunicazione tra i vari neuroni attraverso le loro estroflessioni, quindi indriti o assoni o neuriti, avviene attraverso questi contatti, questi contatti che sono le cosiddette sinapti, cioè le sinapsi, che ciò che fa in pratica funzionare assieme. Quindi quell'immagine AT un po' troppo stilizzata intanto dovrebbe essere formata da questa roba qui. Perché? Perché in origine, e questa è un'altra immagine, anche qui vedete si ha un piccolo andamento a esse italica, perché insisto su questo? Perché queste strutture in origine, questa viene chiamata fibra afferente primaria, cioè stiamo analizzando, cercando di capire che cos'è una fibra afferente primaria. Queste in era in realtà in origine, questa è un'immagine di un embrione di pollo proprio da Ramonica Ial, in origine erano in realtà delle cellule bipolari, cioè vedete che sono le stesse cellule bipolari ganglionari che si ritrovano praticamente nel ganglio, per esempio di corti nell'orecchio. Quindi per esempio ci sarà una fibra che è fondamentalmente cos'è? Un'estroflessione citoplasmatica coperta da membrana plasmatica, che poi potrà essere più o meno melanizzata, questo ne parleremo dopo. Ma vuol dire che in origine questa struttura ha una fibra che sarà, che ne so, cellulipeta, cioè che va verso la cellula, e una fibra che magari è cellulifuga, vedete? E poi, poiché quelle strutture sono all'interno di forze di sviluppo, cioè allungamento del midollo spinale e soprattutto, come direbbe Blacksmith, campo di spinta che forma le strutture vertebrali in quel caso, quindi una sorta di allontanamento delle strutture, questi elementi, poiché tra l'altro le spinte di crescita nel corpo non sono mai lineari, ma sono sempre caratterizzate da fenomeni di tipo torsionali, immaginate che come avviene l'allungamento ci sono anche dei fenomeni torsionali e quindi se voi vedete questa struttura qui che è classicamente bipolare, poi fondamentalmente si attorciglia praticamente, quindi questa fibra e questa fibra è come se andassero incontro a una sorta di attorcigliamento, per cui non si riconosce più praticamente ciò che arriva e ciò che parte. Però sapendo questo, noi tornando a questa immagine, sappiamo quindi che questa periferia, cioè questa fibra, è fondamentalmente quindi il dendrite della cellula gangionare, quindi sarebbe fondamentalmente l'elemento cellulipeto e si attorciglia, entra e poi riparte l'informazione, o meglio l'impulso, perché l'informazione è una parola un po' equivoga, e diventa praticamente assone, come lo conosciamo, oppure come preferisce descrivere blacksmith neurite. Quindi immaginate quell'immagine che abbiamo prima, questa qui bipolare, attorcigliata, quindi vedete qui si stanno avvicinando, qui invece si sono francamente avvicinati. Quindi quando noi torniamo su questa immagine qui, questa qui che viene descritta come un elemento afferenziale, quindi questo in realtà è un dendrite e arriva a contatto nella cellula, da dove parte poi un altro elemento, come se fosse in questa zona qui, come se fosse un assone, ok? Quindi questi sono gli elementi che dobbiamo tenere in considerazione. Allora, a questo punto voi conoscete questo tipo di classificazione, cioè delle fibre A alfa, A beta, A delta, C e quant'altro. Però facciamo un attimo mente locata, che cosa corrispondono questi? Questi corrispondono fondamentalmente a delle estroflessioni di cellule, quindi o cellulifughe o cellulipete, che dipendono quindi dal tipo di cellula presente. Quindi quando noi pensiamo in termini di fibre grandi e mielinate, per esempio A alfa, dobbiamo pensare che la cellula da cui arriva quella fibra è una cellula grande, che sta nel ganglio. Quando invece pensiamo a fibre A delta e C, che sono più piccole, o poco mielinate, o non mielinate, dobbiamo pensare invece a delle cellule più piccole, che stanno nel ganglio, che quindi emettono questo tipo di fibre. Per cui, quando si parla di fibre, la prima cosa a cui dobbiamo pensare è sistema grande o sistema piccolo. La dicitura è stata dire che le cellule grandi sono cellule A e le cellule piccole sono cellule B, con grandissima fantasia. Quindi, allora, più grandi A, più piccole B. Quindi noi potremmo anche cominciare a ragionare in termini, cioè prima di perderci nelle fibre mielinate, non mielinate, grandi. Allora, fanno parte del sistema A o fanno parte del sistema B, perché se fanno parte del sistema A sono fibre grandi e mielinate. E lì possiamo fare delle sottoclassificazioni. Allora, a quel punto c'è chiaro che ci sono quelle più veloci, tipo quelle che vengono dai fusi neuromuscolari, oppure quelle un pochino più lente, ma sempre siamo a velocità elevata, che possono essere 100 metri al secondo, 80 metri al secondo, oppure 70 metri al secondo. Insomma, ci sono queste valutazioni che voi vedete qui. Se vedete in alto, quindi medinate larghe, di largo diametro, di medio diametro, che vengono classificate dagli studiosi che studiano la cute, come A alfa, A beta. Invece quelli che studiano i muscoli, preferisco i numeri romani, scrivono 1, 2. E se voi andate a vedere le misure, qua andiamo da 12 a 20, 6 a 12, ma quello che ci interessa sono le velocità. Queste sono le velocità fondamentali. Praticamente abbiamo a che fare con strutture del sistema A. Quindi, come vi dicevo, a quel punto posso sottoclassificare, posso dire, ok, il sistema A, queste vengono dal sistema dei fusi neuromuscolari. Queste, per esempio, potrebbero venire da, ad esempio, le cosette 1B un po' più piccole che vengono dagli organi tendini del Golgi, d'accordo? Oppure le sottoclassificazioni a sacco nucleare, a catena nucleare del sistema dei fusi neuromuscolari, in cui abbiamo sia fibre 1, quindi molto rapide, sia fibre 2, che invece danno indicazione sulla cosiddetta stabilità. Però siamo sempre nel sistema A. Quindi è il sistema, praticamente, della esteroproprioccezione. Una, per esempio, tornando ad esempio ai fenomeni di trattamento, spesso si sente parlare di trattamenti propriocettivi, oppure di ginnastica propriocettiva. Ora, se questo tipo di dicitura noi la utilizziamo per, che ne so, per incrementare la competenza neurale, che ne so, del gesto atletico e compagnia bella, ha un valore. Ma, se la consideriamo, per esempio, nell'ambito della capacità di eliminare i fenomeni infiammatori, ebbè lì invece ci sbagliamo. Questo non vuol dire che quelle, diciamo, quelle prassi non funzionino e che fondamentalmente hanno una dicitura sbagliata, perché, per esempio, si è visto che l'esteroproprioccezione non partecipa alla capacità di correggere fenomeni infiammatori. Invece i fenomeni infiammatori sono caratteristici generati, o comunque sono in rapporto con tutto il nostro sistema B. E qual è il nostro sistema B? È quello delle fibre piccole, le quali possono essere o poco, diciamo, di piccolo diametro, che hanno poca mielinizzazione, oppure di ancora più piccolo diametro con un'assenza di mielinizzazione. In questo caso gli studiosi del cutaneo diranno A delta e diranno C, gli studiosi dei muscoli diranno 3 romano, 4 romano, e vedete la fibra in pratica come il diametro si riduca e la velocità di conduzione possa partire da, arrivare a massimo 30 metri al secondo, oppure più normalmente siamo su valori molto molto più bassi, 0,4, 2 metri al secondo, quindi estremamente lenti. Ora qui c'è un tentativo di classificazione dell'immagine che abbiamo messo in basso, in questa immagine qui, e attenzione perché vedete come la classificazione sia fatta sul mielinato e il non mielinato, ma questo è fuorviante perché ci dice solo che, ci parla solo della lunga, diciamo, si toglie, si chiudete i microfoni, parla esclusivamente, si parla esclusivamente del fenomeno dell'amminizzazione, ma in realtà è fuorviante perché non ci fa capire la differente funzione che queste fibre hanno. La differente funzione è in base al tipo di cellula che genera quella fibra, non alla fibra stessa, che ovviamente è il frutto della cellula, quindi ovviamente questi, però sarebbe molto più utile ragionare in termini di cellule diversificate e quindi ovviamente estrofessioni, diendritiche, assoniche, praticamente di queste cellule stesse, che sono cellule che, vi ripeto, sono della cresta neurale e stanno nei gangli, quindi questa classificazione sarebbe da fare così, sarebbe sistema A, quindi A alfa, A beta, e sistema B, tutto questo che vedete sotto, a partire dalle A delta e poi quelle fibre C che hanno le loro caratteristiche. Ora, quindi l'elemento centrale sono le cellule ganglionari, che stanno praticamente, che sono dei derivati della cresta neurale e che stanno nei gangli spinali. Adesso facciamo questo piccolo passo e andiamo a vedere in pratica come è caratterizzata la condizione, praticamente, del sistema interogettivo, cioè in che ambito si esprime la sua funzione. Facendo conto quindi che il sistema interogettivo si basa sulla funzione, quindi diciamo il braccio, l'operaio praticamente funzionale periferico, il braccio, la forza lavoro è rappresentata dalle cellule B. Quindi dobbiamo vedere che destino hanno le estroflessioni delle cellule B, sia in senso periferico e soprattutto in senso, quindi periferico vuol dire dendritico, ma soprattutto in senso assonico nel momento in cui entrano nel midollo spinale. Facciamo un piccolo passo indietro e torniamo a una definizione data da Kennon, che è lo scopritore, cioè il cosiddetto inventore, tra virgolette, del concetto di omeostasi, che descrive l'omeostasi come il processo neurale autonomo, rendo occhio e comportamentale, che mantiene in modo ottimale l'equilibrio fisiologico del corpo, altrimenti detta omeostasi. Questo ci deve stare dietro un processo neurale che deve ricevere afferenze in grado di portare le condizioni dei tessuti del corpo. Ora, premesso che io, ma è un'opinione del tutto personale, quindi fatene quello che volete, che il concetto di omeostasi in questo senso qui non è proprio perfetto, perché l'omeostasi secondo, diciamo, delle definizioni tipo McEwan, che è uno più grande esperto di omeostasi, è fondamentalmente caratterizzato dai fenomeni di base, proprio delle condizioni sine qua no. L'omeostasi è una condizioni sine qua no, cioè la pressione parziale d'ossigeno deve essere quella, il pH deve essere quello, la concentrazione di glucosa e nutrienti deve essere quella. Insomma, questi aspetti qui, la temperatura deve essere quella, sono delle condizioni delle condizioni sine qua no, cioè non discutibili. Cioè, sia che faccio la maratona in New York e che dormo, io ho quelli e quei parametri devono stare all'interno di certi elementi stabili. Però spessissimo si utilizza questo termine e secondo me l'equivoco linguistico, tra l'altro lo utilizza anche Craig il termine omeostatico, però io ripeto, secondo me noi potremmo ragionare un po' meglio se noi a questa parola omeostasi sostituissimo praticamente la dicitura metabolico, un metabolismo. Cioè il nostro metabolismo dipende, e quindi metabolismo che si basa ovviamente su dei principi omeostatici indiscutibili, ma che poi cambiano a seconda, perché il nostro metabolismo è diverso a seconda che noi facciamo la maratona in New York o dormiamo, basandosi però su quei principi omeostatici che sono uguali invece nella maratona in New York e nel dormire profondamente. Quindi vuol dire che questo concetto di equilibrio fisiologico del corpo, che è il metabolismo, che si adatta continuamente a ciò che noi, alle nostre esigenze della vita e di relazione che noi abbiamo, dice che ci deve stare un processo neurale dietro, però per esempio, qui lui parla del neuroendocrine autonomo, però per esempio Langley che scopre il sistema simpatico, nei suoi scritti dice io ho trovato una struttura efferenziale, come se avessi trovato degli elementi motori, però di questi elementi motori io non conosco l'afferenza, cioè noi per esempio sappiamo perfettamente che c'è un moto neurone alfa che raggiunge praticamente il muscolo, arriva in pratica sulla placca motrice, ma per avere quella funzione ci deve stare tutto un fenomeno informazionale, cioè quindi delle fibre afferenziali che portino informazioni al midollo, sennò praticamente il sistema afferenziale non funzionerebbe, quindi questa è una sorta di elemento centrale, cioè per avere una funzione afferente devo avere una funzione afferente, terzo non dato, quindi ci sono due elementi che non sono incidibili, infatti sapendo questo Langley dice ci deve stare da qualche parte l'afferenza di questo sistema motore, però io non riesco a trovarlo, quindi noi fino adesso continuiamo spessissimo a studiare il sistema autonomo come un sistema motore, è ferente, ma dobbiamo conoscere bene invece l'afferenza, l'afferenza probabilmente dice Graeck è proprio il sistema di tipo intrecettivo, ci torniamo su, però vedete che già Canon nel 39 si poneva il problema, qual è l'elemento che ci dà informazioni che poi attivano praticamente, lui dice l'omeostasi, ma fondamentalmente il metabolismo e che quindi ovviamente quindi gli elementi autostanti che sono quelli omeostalici. E qui avviene la grande, diciamo, tra virgolette rivoluzione che è portata da Craig, da questo ricercatore, che nel 2002 scrive questo, ha un suo articolo pubblicato da Nature, praticamente che si intende come ti senti, cioè il sistema del come ti senti, e cioè l'introcezione, il senso della condizione fisiologica del corpo. E dice giustamente Craig che le afferenze parasimpatiche, ecco vedete qua, le afferenze parasimpatiche, sulla carta noi le afferenze parasimpatiche, noi sappiamo che c'è il nervo vago, che è un elemento afferenziale, però non è che potremmo definire sulla base di quello che noi descriviamo, non possiamo dire afferenze parasimpatiche, invece lui utilizza questo termine, secondo me anche ha ragione, perché è come se riconoscesse una componente afferenziale. Per il parasimpatico è relativamente semplice, perché c'è ad esempio il vago che porta tutta la componente afferenziale, diciamo che fino a, per esempio, alla flessura colica sinistra, quindi vedete il famoso cardiopneumogastrico, nervo vago, ma per il sistema ortosimpatico questo non è evidente per niente. E allora lui ci fa capire che sono queste piccole fibre, cioè, vedete, parallela all'afferenza simpatica di più recente identificazione, queste fibre sono quelle che fanno parte del sistema B, ecco perché è importante classificare il concetto di B e A negandi, perché altrimenti non si capisce di che cosa si sta parlando, e sono quelle fibre che sono appunto quelle di piccolo calibro, cioè le cosette A, delta e le C. Queste innervano tutti i tessuti del corpo e terminano in modo monosinaptico a livello della lamina 1 del corno posteriore del miollo spinale e del nucleo dorsale del nervo trigemino, del nucleo dorsale del nervo trigemino, che è l'unica porzione del sistema bulbo-puntino che non ha soluzioni di continuità rispetto al midollo. Sapete che il midollo praticamente quando arriva al livello del tronco di encefro, quindi nel bulbo, si interrompe, cioè il grigio si interrompe, il corno anteriore si interrompe, il corno posteriore si interrompe e ci sono tutta una serie di suddivisioni che poi diventano interocettive. L'unica struttura che rimane praticamente in qualche maniera in continuità è il sistema della lamina 1, che è dove arrivano le informazioni cosiddette interocettive, cioè quelle delle fibre A, delta e C. Nel bulbo e nel ponte quel sistema lì diventa trigeminale, ma non c'è soluzione di continuità, cioè quindi è in continuum praticamente con il sistema del grigio spinale. L'unica cosa che succede è che ha una leggera andamento verso l'esterno, cioè da posteriore diventa un po' leggermente laterale, ma non si interrompe, ecco perché c'è ovviamente la presenza del quarto ventrico e automaticamente arriva fino al punto. Quindi gli elementi centrali della, vedete, dell'afferenza del sistema ortosimpatico sono, come dice Craig, le fibre del sistema interocettivo, cioè quelle di piccolo calibro. Quindi in qualche maniera si arriva di nuovo, si arriva finalmente dopo tantissimi anni a concepire quale fibra afferente ha il sistema motore simpatico e questo sistema è appunto il sistema di tipo interocettivo legato a queste fibre di piccolo calibro del sistema B, che è qualcosa che dobbiamo cominciare a, come dire, a fare entrare nel nostro lessio. Quindi sistema B associato al sistema della lamina 1, che quindi vuol dire anche radice, diciamo nucleo dorsale del trigemino. Quindi quando parliamo di B, parliamo di cellule della cresta neurale, quindi praticamente al di fuori del midollo spinale o del tubo neurale, del sistema nervoso centrale in genere. Quando parliamo invece del sistema della lamina 1 e ci associamo alla radice discendente del trigemino, vi ricordo che il trigemino ha tre radici sensoriali, quella principale che sta a livello del ponte, che serve quella esterocettiva, quella esterocettiva, poi c'è un'altra, ed è il comportamento un po' particolare del trigemino di tipo mesencefalico, che è più prettamente proprio scettiva, e poi c'è questa che è chiaramente interocettiva e che è in realtà in continuità con il midollo spinale, come se fosse il midollo spinale che arriva fino al livello del tronco dell'encefalo. In queste immagini di Craig possiamo vedere, come tutte in pratica le informazioni, vedete, A, beta, delta e C, arrivino quindi sulla lamina 1 e qualche autore descrive anche delle informazioni che arrivano sulla lamina 2, secondo qualche autore più di tipo espressamente cutaneo. Quindi che cosa vuol dire? Che queste informazioni trasducono delle condizioni, allora potremmo dire che il sistema intracettivo trasduce, allargando, forzando un po' la mano, informazioni di tipo chemocettive. Perché chemocettive? Perché utilizziamo questo termine? Perché noi sappiamo che il metabolismo è fatto di anabolismo e catabolismo, e quindi si caratterizza con differenti fenomeni di tipo, diciamo, che possono essere di concentrazioni chimiche differenti. Per esempio, è chiaro che in un fenomeno catabolico aumentano, per esempio, gli HPO, e quindi, per esempio, il pH diventa più acido, abbassa. Quindi, che cosa significa questo? Significa che, se io voglio sapere come sta metabolicamente una struttura perifericamente, devo saperne la chimica, cioè la concentrazione di determinate sostanze che possono essere più o meno differenti a seconda del tipo di metabolismo, cioè se c'è la tendenza catabolica o anabolica. Questo significa che, quindi, i nostri sistemi intracettivi sono dei sistemi fondamentalmente basati sulla chimica, cioè sono dei chemocettori, e assomigliano un pochino a quello che succede, praticamente, per i recettori del gusto. Infatti, condividono la stessa zona di rappresentazione cerebrale, anche se su spazi diversi, ma è, per esempio, il lobo dell'insula, del lobo temporale. Ora, quindi, che cosa quasi dice che includono lo stato meccanico, ma meccanico in che senso? Non nella trasduzione tipo esteroprogettiva, ma meccanico nel senso che cosa combina un certo tipo di forza al mio metabolismo, cioè come mi obbliga, per esempio, se avete avuto la possibilità di vedere gli studi di Stanley, fatti sulla cosiddetta disfunzione somatica, sul cosiddetto modello in vitro della disfunzione somatica, lì si vede una riorganizzazione dei fibroblasti nella scatola di Petri. Quindi vuol dire che una modificazione meccanica determina anche una modificazione di tipo di forma e quindi tipo metabolico delle cellule sottostanti e dei tessuti sottostanti. Termico va bene, perché la termoregolazione ovviamente comporta delle modificazioni anche qui basate su fenomeni di vasodidratazione e vasocostrizione, per cui è chiaro che abbiamo delle reattività di tipo metabolico, chimico, metabolico, ormonare e quant'altro. Quindi l'interocezione, questi sono i recettori, però vedete, non sono come dei recettori, come dei trasduttori. Queste fibre periferiche, va sottolineato il fatto che sono nude, cioè quindi hanno un contatto con il tessuto circostante. Quindi per esempio delle sostanze che vengono introdotte, per esempio in senso cosiddetto antidromico, cioè che vanno verso la periferia, perché il dendrite c'è la possibilità anche di trasferire sostanze perifericamente. Quelle praticamente vengono immesse nei tessuti, potremmo utilizzare il termine paracrino, e lì praticamente possono determinare l'insorgenza di modificazione della funzione metabolica perifericamente. Per esempio la sostanza P è un noto attivatore di membrana. E quindi però se quantitativamente si accumulano queste sostanze, possono stabilire fenomeni di tipo pro-infiammatorio. I recettori, vi ho fatto vedere questi qui, perché è interessante? Perché per esempio se voi vedete questo, oppure che ne so, il mentolo e quant'altro, noi possiamo per esempio avere la sensazione, col mentolo non abbiamo la sensazione di fresco, ma in realtà la temperatura non si abbassa. Se si abbassa la temperatura abbiamo la stessa sensazione di fresco, d'accordo? Quindi vuol dire che non sono dei recettori fortemente specifici, ma sono dei recettori, questi famosi TRP, Transient Receptor Potential, che poi ce ne sono vari tipi, 2, 1, 3, 4, ne tanto ne trovo uno, praticamente sono fondamentalmente degli attivatori di risposta periferica, che però non sono così specifici come invece si ottiene attraverso gli altri recettori. È vero per esempio che se mi fico un dito nell'occhio vedo le stelle, a parte il dolore, ma quindi vuol dire che se attivo la retina con una forza meccanica ottengo degli effetti, diciamo, di luce. Però sono estremamente poco, sappiamo perfettamente che quello non arriva da un'informazione fotonica, ma arriva da altro, ma non per il dolore, ma perché le immagini che si formano sono ovviamente abbastanza totalmente disorganizzate. Mentre il mentolo la sensazione del fresco la dà, quindi ci fa proprio sembrare che sia fresco, anche se in realtà la temperatura non si sta abbassando per niente. Allora, vabbè, questi sono concetti legati al fatto che la lamina 1 ha un campo di oggettivo piccolo, cioè vuol dire che la lamina 1 del nostro sistema del miolo spinale e il rapporto con il nostro sistema dermatomedico. Ovviamente poi, per esempio, si sa in clinica che con un'anestesia locale se dovessi addormentare un dermatomero, in genere devo addormentare quello sopra e quello sottostante, quindi per addormentare bene un dermatomero ce ne vogliono tre, ma perché a questo livello ovviamente avvengono comunque delle sinapsi interneuroniche, quindi in paradisi possono essere delle coattivazioni dei vari cosi. Però diciamo il campo in generale di attivazione di una lamina 1 è relativamente piccolo, cioè è correlato al dermatomero. Nella cosiddetta lamina 5 noi abbiamo praticamente la presenza di neuroni che hanno una funzione un po' particolare. Sono i cosiddetti neuroni della lamina 5. Qui avviene una sorta di connessione tra, ad esempio, vedete una fibra che è questa qui a delta e delle fibre a beta che possono arrivare a connettersi, per esempio, alla lamina 4 ma arrivano poi alla lamina 5. Cioè in questa lamina 5 esiste una sorta di connessione tra stimoli così più propriamente meccanici, che quindi sono stimoli tipo estero-propriocettivi, e quelli che qui si dice nocicettivi, questo è candel, perché continui a insistere con il concetto di tipo nocicettivo. Però in realtà le fibra a delta portano anche informazioni tipo interocettivo. E qui si hanno, sono stati in pratica denominati questi neuroni, i cosiddetti wide dynamic range neurons. Perché wide dynamic? Perché fondamentalmente rispondono a più stimoli. E per tanti anni sono stati studiati in maniera molto molto intensa. Sembrava che fosse l'elemento centrale del nostro studio, in particolare sul cosiddetto dolore, di cui poi domani vi parlerà Lele. E qui stiamo parlando ancora di nocicezione. E quindi è stato fatto un grosso, ci sono molti articoli negli anni novanta sul wide dynamic range neurons. Secondo me qui si tratta piuttosto di una sorta di prima fase, ma ripeto è un'opinione tutto personale, una prima fase associativa, come se cominciassimo a mettere un po' insieme le cose. E perché questo? Che noi per anni, per tanto tempo, abbiamo studiato, per esempio, il fenomeno dolore, che tra l'altro è un fenomeno emozionale, come il risultato di fenomeni tattili. E ma questa tattilità, a questo punto, se noi abbiamo fatto la nostra classificazione A e B, c'è fino a un certo punto. Sì, è vero che ci deve stare il contatto, quindi il tatto, ma il sistema neurale che sta sotto l'espressività, diciamo, del far emergere l'emozione dolorifica, in realtà non c'entra nulla col sistema in pratica tipo esteropropriocettivo, cioè può essere concomitante e quindi noi lo mettiamo insieme, ma più a livello cognitivo che non a livello di simulazione neurosensoriale periferica. Ora, quindi, le fibre viscerali C hanno proiezioni diffuse nel miglioro spinale, quindi sappiamo dove, nel limite, nelle lamine 1, fondamentalmente. Poi vengono descritte anche lamine 2 e poi lamine 5, ovviamente, perché ovviamente c'è il concetto delle wide dynamic neurons, quindi quella zona per meno associativa. E poi qua si parla di 10, ma qui è la solita storia che quando si controllano in letteratura, ad esempio il candel, vengono messe anche queste lamine 10. Lamine 10 fondamentalmente è una interconnessione, quindi potrebbe essere la percezione del passaggio di queste vini, non credo che arrivino sulla lamina 10, però probabilmente potrebbe essere il passaggio, cioè la descrizione dell'incrociamento, dell'informazione che arriva, perché sappiamo, vedremo, che quando arriva sulla lamina 1, poi si forma il fascio spinotalamico laterale che è già accrociato perifericamente. Però nella letteratura li trovate, fatene un po' quello che volete, state attenti a leggere in maniera un po' critica. Qui ovviamente, siccome c'è una solita confusione, non si è ancora fatto il passo, cioè non si ha ancora il coraggio di dire, guardate che il dolore è un aspetto dell'interocezione, pardon, la nocicezione è un aspetto dell'interocezione. Se ne continua a parlare un po' come se fosse qualcosa di individuare a sé stante, in realtà invece probabilmente fa parte di un sistema, è all'interno di un sistema un po' più complesso, che è quello della sensazione di come stiamo, cioè il dolore ci fa capire come stiamo, ma anche come il piacere e come altri aspetti, al prurito per esempio, il prurito come lo classifichiamo? Cioè che cos'è? Un dolore o il solletico? E' un dolore, un piacere? Non si sa. Quindi fa parte del senso dell'audio feel, del come ti senti. In realtà questo discorso sul dolore viscerale è perché sono minori il numero di fibre che arrivano dai visceri e tra l'altro hanno anche fenomeni di collegamento con più segmenti di lamina 1, quindi diventa meno definibile il dolore o comunque la percezione nocicettiva perifericamente a partire da queste fibre. Allora, l'elemento che si forma, e qui entriamo sempre in una classificazione di candelle sulla quale si può discutere, comunque ve la porto perché in letteratura questo viene riportato, che la principale via di informazione anche qui nocicettiva, termiche e viscerali, questo è candelle, ma se noi diciamo nocicettiva, termiche e viscerali, che cosa utilizziamo? Interocezione. E più della metà delle proiezioni spinali verso il talamo origina la lamina 1. Questo invece è importantissimo, cioè vuol dire che la maggior parte, una grandissima contingente di fibre che porta in formazione al talamo arriva appunto dalla interocezione. Interocezione che praticamente arriverà, vedremo, al talamo. La seconda è quella che proviene dai cosiddetti wide dynamic neurons lamina 5, sempre sul tratto spinotalamico. E qui c'è una terza componente che mette candelle, che è rappresentata dalle fibre provenienti da lamina 7, che riceve afferenze in ampie zone del corpo, inclusi i visceri, che pertanto mostrano avere campi recettivi molto ampi. Io su questo ci metto un bel punto interrogativo, perché la lamina 7 è già quasi una lamina anteriore, è una lamina che già ha dei motoneuroni tipo vegetativi. Non lo so, ho dei dubbi su questo tipo di classificazione. Mentre torniamo un attimo a quello che dice Candel, scusatemi Craig, Craig nel suo articolo cita, quello del 2002 cita, dei lavori in ambito embriologico che mettono in correlazione i neuroni della lamina 1, che in effetti quando noi studiavamo facevano parte del cosiddetto spazio dell'Issauer, che veniva descritto come una zona di passaggio, cioè non è molto ben definita come zona. Questi neuroni, secondo questi studi di embriologia, sembrerebbero arrivare dai cosiddetti interneroni autonomi, cioè quegli elementi che formano le connessioni che stanno a livello del corno laterale. Sapete che abbiamo un corno laterale, per esempio tra T1 e L2, lì ci sono i motoneuroni di tipo vegetativo, quindi cosiddetti neuroni pregangliari simpatici. Ora, sembrerebbe che questi due elementi siano in connessione e addirittura che la lamina 1 sia una sorta di, uso un termine al cui sentire Black Smith rabbrividerebbe, comunque sarebbe una sorta di migrazione, comunque un allontanamento di questi interneuroni e quindi neuroni, motoneuroni vegetativi, che vanno a finire sulla lamina 1. Questo che cosa implica? Che esiste una connessione diretta tra la lamina 1 e i neuroni che formano il corno laterale, che sono quindi degli efferenti. Questo è interessante. Ovviamente non spiega totalmente, perché allora l'opposizione potrebbe essere ma perché fino a L2 e da L3 fino a S1 niente? Non lo sappiamo. Ma comunque le relazioni con gli interneuroni ci rimangono e quindi probabilmente questo tipo di possibilità c'è. Perché è importante questo? Perché questo stabilisce la prima ANSA di risposta vegetativa a uno stimolo introcettivo. Nel momento in cui, questo è un vecchio articolo in cui si faceva una stimolazione infiammatoria del corno uterino nei topini, praticamente nei topine, e si vedeva una reattività, questa si chiama la base, il cosiddetto riflesso della radice dorsale, dorsal root reflex, e qui si vedeva in pratica l'esportazione del fenomeno infiammatorio nelle zone cutanee, che corrispondevano più o meno all'innervazione, in questo caso, dell'utero. Insomma, hanno una sorta di elemento di coesione già al livello del midollo spinale, ma poi soprattutto le proiezioni più interessanti sono dopo. Quindi allora che succede quando arriva la connessione con la lamina 1? Quindi fibra cellula B, assone della cellula B del ganglio, diventa la radice par componente della radice dorsale, a livello per esempio spinale, lamina 1, a quel punto formazione dai neuroni della lamina 1, lamina 2, e forse anche altri, ma diciamo questi sono gli elementi centrali, lì contattano un neurone praticamente del midollo spinale e l'assone di quel neurone, incrociando, va a finire praticamente dall'altra parte formando il fascio spinotalamico laterale, quindi che parte, che sta nel cordone laterale del midollo spinale e controlaterale. Ora, quella via lì ovviamente è di tipo ascendente e quindi risale. E dove fa la prima sinapsi? La prima sinapsi la fa nella zona del sistema del tronco dell'encefalo. Nella cosetta sostanza reticolare, quella che veniva chiamata una volta sostanza reticolare, è bulboponto mesencefalica, cioè la parte dorsale della sostanza reticolare, che è anche quella, vedremo, che viene studiata perché è l'elemento attivatore delle risposte vegetative simpatiche del sistema, diciamo, del sistema spinale. Il sistema spinale, cioè il corno laterale del sistema spinale, è un sistema praticamente oscillante, devono arrivare stimolazioni della periferia, oppure, soprattutto, stimolazioni che arrivano nel senso discendente, in particolare dagli elementi craniali, tra gli elementi rostrali. Il primo di questi è la sostanza reticolare bulboponto mesencefalica. Per esempio, qui vediamo per esempio il sistema del bulbo rostrale ventrolaterale, mediale, il quale, che è in grado, perché, scusate, questo è il bulbo rostrale ventrolaterale, sì, che è in grado, vedete, di attivare una risposta del sistema nervoso autonomo perifericamente. Ora, quello che volevo farvi mettere in evidenza è che esistono una serie di ansie che si stabiliscono, cioè ogni volta che il flusso del sistema interocettivo arriva nel tronco dell'encefalo, comincia a prendere, fa sinapsi con dei nuclei, che a questo punto vengono definiti. Quando ho studiato io, era la sostanza reticolare indefinita, invece cominciamo a mettere in evidenza dei nuclei, cioè tipo il nucleo A1, questo che stiamo nel bulbo, tipo il nucleo parabrachiale, qui siamo nel ponte, qui entriamo nel mesencefalo, d'accordo? Qui, per esempio, scusate, no, qui entriamo nel mesencefalo, per esempio con la sostanza del grigio per acqueduttare, vedete come ogni volta che arriva un'informazione poi c'è immediatamente la possibilità di attivare altri nuclei della sostanza reticolare, per esempio questo è molto importante, per esempio il nucleo parabrachiale riesce a influenzare il grigio per acqueduttare, il grigio per acqueduttare è una sorta di efferente o discendente del sistema mesencefalico che attiva, in pratica, ad esempio è in grado di dare delle risposte antinocicettive, cioè questo è quello che probabilmente è uno degli elementi che vengono messi in azione quando si ha la necessità per gli animali di non percepire il dolore, cioè ferito ma continua a svolgere la sua funzione, se si fermasse a leccarsi le ferite il predatore arriverebbe. Quindi, insomma, sono tutta una serie di ansi che si formano e vedete che è con un coinvolgimento anche di un elemento importantissimo che è il sistema ipotalaneo. Quindi la fibra, cioè il sistema intercettivo arriva e già per esempio il cara che qua lo mostra, che al livello della mina 1 può dare quello che dicevamo prima, la prima ansa spinale. Questo è il nucleo del tratto solitario, quindi siamo, diciamo, questo è il nucleo del vago, quindi c'è un coinvolgimento del nucleo del tratto solitario, quindi del vago, nel sistema che diventa intercettivo. Quindi nella zona del bulbare al sistema intercettivo si aggiunge il sistema, le informazioni che arrivano dal vago, che quindi diventano parte dell'intercettione. Quindi, ora senza starla troppo a fare complicata, però vedete come si creano già delle ansie e quindi si possono creare già delle risposte prima che si arrivi al sistema, praticamente, diencefalico, poi talamico, quindi diencefalico ipotalamico e quindi talamico e poi in ultimo arrivando praticamente ai fenomeni, diciamo, alla funzione della corteccia. Quindi leggendo qui i neuroni della mia 1 progettano densamente e selettivamente anche nei siti preautonomi del tronco di encefalo, stendendo quindi la via afferente al successivo anello della gerarchia omonostatica, cioè vuol dire i vari livelli di controllo che si possono utilizzare e che attivano risposte di tipo discendente. Tutto questo sembra molto, come dire, complicato, però in realtà è fortemente in relazione con i fenomeni infiammatori, quello che succede. Ad esempio, degli studi fatti da gruppo di Sluca, mettiamo in evidenza come in certi studi come la mobilizzazione articolare periferica attivasse una risposta serotoninergica, ma questa risposta serotoninergica non poteva che arrivare dal tronco dell'encefalo perché il sistema della serotonina non viene prodotta a livello del minolo spinale. Quindi vuol dire che quel sistema di mobilizzazione periferico che veniva utilizzata andava a finire sul tronco dell'encefalo e lì determinava una risposta discendente. Quindi vedete, quella è una forma, un primo studio di come possono essere coinvolti questi archi del tronco dell'encefalo. Ovviamente poi ci saranno ulteriori, ma qui diventa poi estremamente complesso discernere. Comunque ci saranno coinvolgimenti dell'ipotano, talamo e quindi porteccio, che adesso andiamo a vedere. Questa è in pratica un'ansa che viene descritta come spino bulbo spinale, questa è la lamina 1, vedete questo è l'incrociamento, il tratto spinotalamico e questi sono gli elementi, CRIG li chiama regioni omeostatiche. Fondamentalmente è la sostanza reticolare dorsale, quindi più regioni di controllo metabolico, perché ha un effetto sul sistema di tipo autonomo e quindi riesce a rispondere immediatamente alle prime avvisaglie di informazioni. Quindi molto spesso abbiamo come una sorta di reattività immediata, senza un coinvolgimento immediato della corteccia, cioè ci sono dei sistemi quasi automatici, ma pensate per esempio al feto oppure a un bambino piccolo piccolo e lì la corteccia è poco funzionante. La corteccia limbica sicuramente è più funzionante del resto, però per esempio molte reattività sono su base del tronco dell'encefro, quello che Damasio poi ha chiamato il protose, questa zona qui. Vabbè, questo l'abbiamo già detto, l'abbiamo già accennato, la potente afferenza verso il gruppo di neuroni in A1, per esempio che erano queste, A1, presenta particolare rilevanza perché i risultati cruciali delle sue proiezioni verso l'ipotano per risposte neuroendocrine verso il cambiamento delle condizioni di sottotale, cioè è stata tutta una serie di sottotitoli come se fossero delle anse nelle anse, sempre più ampie, che determinano tipi di risposte che a volte non necessitano per forza la consapevolezza corticale, ma che sono già svolte praticamente in ambito di questi sistemi che diremmo più caudali. Il nucleo del tratto solitario è un elemento centrale, sappiamo praticamente che è il vago, così come la lamina A1 hanno una grossa attività sul cosiddetto nucleo parabrachiale, di cui già abbiamo accennato, che quindi rappresenta un elemento determinante, il nucleo parabrachiale lo troviamo nel sistema pontino. e qui rappresenta fenomeno di integrazione, questo ve lo leggere da soli, insomma, tutto ciò che è mantenimento dell'equilibrio cardiovascolare, respirato energetico, nutrizione, glucosa, fluidi, tutto questo in pratica viene gestito da questo sistema che è il sistema interocettivo. così come dense sono le proiezioni verso il grigio per acqueduttale, che viene descritto da Saper, da Craig, come l'elemento in pratica motore del, quindi motore omeostatico, quindi vuol dire per noi vegetativo, del sistema del mese encefalo, così come verso l'ipotano. Allora, adesso dobbiamo arrivare dopo questa prima grande ansa di relazioni che sono state stabilite a livello del sistema, come si dice, del sistema del tronco del encefalo, quindi con un piccolo contatto col sistema di encefalico, che è quello appunto dell'ipotano, poi tutte quelle, diciamo, quelle ulteriori effetti, quindi di rirrappresentazione, se volete, o comunque di riattivazione, quindi sinapsi, ripartenza di fibre, arriveranno praticamente nel sistema del talamo. Ora, quali sono i nuclei del talamo che sono coinvolti? Beh, sono fondamentalmente, noi nel talamo sappiamo che c'è una grossa differenziazione tra la parte ventrale e la parte dorsale. Allora, qui si parla di nucleo mediale, ventro basale del talamo, che poi sarebbe il postero mediale, e la parte invece dorsale del talamo. Se torniamo su questa, qui lo possiamo vedere, abbiamo una, vedete, se questa è la, diciamo, la via, che dopo che ha preso sinapsi, arriva sul talamo e si sdoppia in due parti. Una parte che, diciamo, è ventrale, ventrale perché è la ventralità del talamo, è una parte dorsale. Ora, la parte ventrale, che è una parte un po' particolare, in particolare, secondo Craig, è il nucleo ventrale post-tromediale, la parte posteriore, quindi dove arrivano tutte le informazioni interocettive. lì, la proiezione è sulla cosiddetta corteccia interocettiva, cioè fondamentalmente l'obo dell'insula. Anche sull'area 3A, però qui non si è mai capito bene il tipo di funzionamento. Comunque, fondamentalmente, perché qui siamo più in un'area di tipo paretale, non si è capito bene questa funzione, però qui è chiara, invece, l'espressività sul lobo dell'insula, lobo temporale, quello profondo, e dove c'è la proiezione, appunto, dei nuclei ventrali posteriore dei ventrali mediali del sistema talamico. Quindi l'attività interocettiva finisce nella zona del lobo dell'insula, mentre quello mediale va a finire nel giro cingolato. Il giro cingolato, invece, è un classico giro della parte anteriore del giro cingolato, che è un classico giro, praticamente, che sta nella faccia mediale dell'emisfero cerebrale. E queste sono le immagini, questo è il lobo dell'insula, vedete, è una struttura che per vederla bisogna aprire l'opercolo, è stato aperto l'opercolo, invece questo è il giro cingolato, la faccia mediale, vedete, è in questa zona anteriore. Quindi è come se noi, la nostra attività interocettiva fosse, alla fine, dal talamo, nel talamo, sdoppeata in due porzioni, dorsale, che poi diventa mediale, cioè nel senso che va sul giro cingolato, ventrale, che poi diventa più laterale sull'emisfero cerebrale, anche se è un laterale profondo, perché è il lobo dell'insula, che è la struttura del lobo temporale che sta all'interno del sistema dell'opercolo. Qui c'è l'opercolo, questo è il sorco laterale. Aprendo questo si va a vedere, praticamente, si può mettere in evidenza il lobo dell'insula. Vedete, qui sono, queste sono per, come punti di riferimento, sono in pratica, questo è il giro post-centrale, quindi l'area sensitiva primaria, questo è il giro pre-centrale, l'area motore primaria. Allora, quindi gli elementi che, diciamo, corticali che gestiscono l'informazione interocettiva di prima istanza, cioè nel senso, come se rappresentassero il primo livello, quindi la cosiddetta area di primo livello gerarchico, dove arriva un'informazione, sono appunto il sistema del lobo dell'insula e il sistema del giro cingolato nella parte anteriore. Ok, questo va bene, lo potete vedere da soli. Allora, quindi, tornando un attimo sulla lamina 1, quali sono gli elementi che possono essere messi in evidenza? Allora, per esempio, i nocicettori, i cosiddetti a delta, cosiddetto primo dolore trafittivo, i nocicettori C, secondo dolore urente, le fibre a delta, quelle che sono, ah, queste qua sono famosissime perché sono quelle che ci fanno beccare gli spifferi, no? Quando ci cominciano, ah, c'è uno spiffero, eh, le fibre a delta perché sono relativamente rapide. Poi ci sono quelle calde, C però, per il caldo, quelle ultralente, per il prurito, tant'è che il prurito non passa subito, ci vuole tempo perché passa il prurito, perché? Perché sono lente, perché? Le fibre citati, il cosiddetto tatto sensuale, il sensual touch, oppure il soft touch, le fibre cettoriali a delta per i recettori meccanici metabolici, cioè questi stanno praticamente nel sistema muscoloskeletrico, e poi ci sono tutte le classi, le sottoclassi afferenti viscerali che non sono state ben caratterizzate, per ragioni metodologiche, ma che dati anatomici e psicofilici indicano che tale specificità esiste, cioè che esistono delle sottoclassi appunto per le afferenze viscerali. Tutto questo è ciò che sta in periferia, che si concentra praticamente nel sistema delle cellule, che è il prodotto delle cellule B, il gangli, va sulla lamina 1 e poi vedete comincia ad avere quel percorso che abbiamo descritto, quindi spino talamico laterale e contro laterale, nuclei praticamente, diciamo sinapsi sulla sostanza reticolare, bulbo-vondo-mesencefalica, aggiunta nel nucleo del tratto solitario, quindi il vago dà la sua componente intracettiva a partire dal bulbo, e a quel punto già c'è un'attivazione delle risposte diciamo di tipo autonomo, anche influenza sul sistema ipotalamico, e poi la via arriva, prima di arrivare alla corteccia, sul talamo, lì si sdoppia, parte ventrale e parte dorsale. La parte ventrale sarà poi praticamente fornirà, oppure sarà connessa con il lobo dell'insula, la parte dorsale invece della zona talamica sarà in connessione col giro cingolato anteriore. Ci siamo fino adesso? Ci sono domande? Ok. Allora, vabbè questo è quello che abbiamo già descritto, un po' in maniera più, diciamo, più specifica, ma la Laminano proietta svolograficamente il ruolo del relay, vabbè questa è tutta roba che vi potete leggere da soli, senza che stiamo tanto a classificare. Andiamo un po' un l'insula, nella zona dell'insula, diciamo, la corteccia introcettiva, quella che dovremmo dire un equivalente di primo livello, come se fosse, che ne so, l'area visiva primaria sul solco calcarino del lobo occipitale, faccia mediale lobo occipitale, corrisponde alla parte posteriore, praticamente, dell'insula, che sarebbe la parte, quindi, la sorta di accesso delle informazioni intracettive, è lì che cominciano a diventare corticali. Ora, il sistema, diciamo, della corteccia, e a che cosa, diciamo, si può essere correlata? A che tipo di stimoli? A quelli nocicettivi, che poi diventano dolore. Attenzione, qui ho messo dolore, ma attenzione, il dolore è un prodotto corticale, quindi è il prodotto, praticamente, dell'attività cerebrale. Qui, invece, la nocicezione ci può stare anche in assenza di dolore. Banale, il fatto che possiamo fare un'anestesia, e la nocicezione continua a funzionare, ma non sentiamo l'emozione di dolore. La temperatura, il progetto, l'esercizio muscolare, l'attività cardio-respiratoria, la fame, la sete, il tocco sensuale. Che cosa sono tutti questi aspetti? Sono fondamentalmente aspetti legati al come stiamo, a quella che è la nostra attività, che può essere di tipo sia relazionale, ma anche di tipo attività, diciamo, tutto ciò che è alla base delle nostre funzioni. Per esempio, la sete, oppure se ci abbiamo fame, la necessità di rispondere a un esercizio, oppure di recuperare rispetto a un'attività di esercizio muscolare. Se uno decide di fare sport, determinerà praticamente, sicuramente un fenomeno di tipo catabolico. Poi ci sarà da essere un fenomeno anabolico di recupero. Chi è che lo stabilisce? Come l'entità? Come? Il sistema introcettivo. Il quale praticamente poi andrà incontro all'allenamento esattamente come le altre strutture. Anche le persone che recuperano più facilmente un esercizio fisico sono persone allenate, cioè hanno un'attivazione dei sistemi introcettivi. Cioè è sempre su base neurale questo tipo di cose. E noi dobbiamo conoscere gli elementi che sono la base di queste attività neurali, che sono i sistemi introcettivi. Anche perché quando quello non accade, i fenomeni che vengono a essere attivare, sono fenomeni di tipo infiammatoria. È possibile fare una domanda? Dimmi, chi sei? Antonio, vabbè, è uguale. Antonio, ciao. La domanda è, è possibile dire che in soggetti allenati ci sia una migliore risposta anche in virtù di un miglioramento della gestione infiammatoria, che è aspetto interocettivo in questo caso? Sì, diciamo di sì. Perché se il concetto di infiammazione su cui dovremmo cominciare a muoverci, a mio parere, è un concetto di tipo quantitativo, cioè non di tipo qualitativo. Quelle sostanze che vengono dette pro-infiammatorie diventano pro-infiammatorie perché sono quantitativamente elevate. Quindi esiste la possibilità di avere un eccesso di quel tipo di produzione che determina infiammazione, ma in certi casi invece, anzi nella stragrande maggioranza dei casi, sono l'espressività di una normalizzazione o comunque di una regolazione dei tessuti periferici in base alle nostre esigenze. Sì, sì. Allora, in questo caso possiamo vedere studi in risonanza con la tomografia emissioni di positroni, praticamente la possibilità di mettere in evidenza le zone che si attivano. Dimmi. Dimmi, dimmi. Posso fare una domanda? Sì. Quindi anche quando parliamo di dinastica respiratoria, parla spesso di dinastica respiratoria legata anche all'attività cardigale, anche questo ha a che fare con quello che è probabilmente l'aspetto dell'intercessione. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Beh, infatti perciò, dicevo, secondo me è molto importante per la nostra opera, perché è un elemento che crea proprio di per sé ti dà tendenza alla integrazione. Sì, tu vai a stimolare un organo, ma in realtà non stai stimolando solo quell'organo, stai stimolando tutto il sistema che in qualche maniera è in qualche maniera ubiquitario, quindi quei sistemi di regolazione valgono anche per altri elementi. Mi ricordo anni fa c'erano degli studi che mettevano in relazione degli strani fenomeni che avevano notato, poi non sono stati più fatti, però comunque all'epoca li notarono, per esempio nelle broncopatie cronico-ostruttive si notavano per esempio delle perdite, delle sarcopenie a livello del sistema dei quadricipiti. Che cacchio c'entra il polmone col quadricipite? Probabilmente si ci trovano di fronte a un'alterazione marcata dei fenomeni interocettivi, cioè quel fenomeno infiammatorio di un organo specificamente, perché è diagnosticato, broncopatia cronico-ostruttiva, quindi infiammazione cronica, determina una modificazione dell'attività interocettiva, per cui per esempio tutto il sistema invece di spostarsi verso un'attività anabolica si sposta verso un'attività di tipo catabolico e quindi hai la sarcopenia. Quindi su tutti gli aspetti che noi dovremmo cominciare a riflettere molto di più e quindi per esempio per ottenere il massimo rendimento di un atleta noi dobbiamo ottenere la massima attività funzionale di tutte le articolazioni, non solo quelle che vengono utilizzate. È come se un tennista noi ci interessassimo esclusivamente dell'arto superiore destro se non è mancino, invece in realtà noi funzioniamo nell'insieme e la tendenza del sistema interocettivo ci fa capire proprio questo. In questa immagine qui vedete le rappresentazioni praticamente che si ottengono, per esempio se una funzione, per esempio qui si fa uno sforzo fisico, sente dolore, questa è la zona che praticamente viene attivata, che è il lobo dell'insula. Già, sì, oltre questo sta emergendo un concetto abbastanza interessante che è quello legato al fatto che ci sono delle rappresentazioni somatotopiche. Cioè è chiaro che nella zona sensoriale estropropocettiva c'è il famoso homunculus sensoriale, abbiamo l'homunculus di tipo motore nel giro precentrale, quindi l'area motore primaria, ma in realtà sembrerebbe che questo tipo di rappresentazione somatotopica sta anche a livello dell'insula. E qualche esperienza è stata condotta, per esempio in questo studio è stato visto come lo sforamento dell'avambraccio in rosso e della coscia è in blu, quindi se c'è stato uno sforamento dell'avambraccio avete questo tipo di attivazione, se c'è uno sforamento della coscia avete questo tipo di attivazione. Che cosa significa questo? Significa che sforamento vuol dire soft touch, vuol dire quindi tocco praticamente delicato, che questo tipo di attività in realtà viene rappresentato a livello corticale con una somatotopia. Quindi siamo in grado di percepire non solo da un punto, la somatotopia non deve per forza, come dire, o comunque il riconoscimento che c'è qualcosa che ci sta toccando in quel caso dall'esterno, che però non viaggia attraverso il sistema A, cioè viaggia assieme al sistema A, ma non ha solo la, diciamo, la cui rappresentazione topografica, somatotopica, non è data per forza esclusivamente dal sistema A, ma anche dal sistema B, cioè anche il sistema intercettivo probabilmente ha una rappresentazione di tipo somatotopico. Siamo ancora agli inizi, però praticamente le prime informazioni sono queste. In quest'altra immagine vediamo come l'informazione dalla lamina 1 vada anche sul nucleo dorsale del talamo e andando sul nucleo dorsale del talamo, questa zona qui, poi, scusate questa, poi ha come rappresentazione corticale il giro cingolato anteriore, la parte intera del giro cingolato. Perché è importante? Perché questo tipo di struttura, il giro cingolato anteriore, sembrerebbe essere quella struttura molto coinvolta nell'espressività motorie, cioè espressività motorie in rapporto a come stiamo. Quindi anche la nostra attività, l'espressività, diciamo, se volete uso un termine posturale, cioè comunque il fatto del muoversi, del cambiare posizione comunque, dipende anche dal nostro stato intercettivo. per cui qui si capiscono anche ciò che si diceva una volta sulle cosiddette, mi viene in mente lo when, sulle gabbie comportamentali, comunque il corpo che assume determinati tipi di posizioni nello spazio, posture, quindi possibilità di movimento che sono modificate, appunto in pratica il rapporto al nostro stato intercettivo, che vuol dire anche stato emozionale, cioè quindi vuol dire anche, ecco perché questo è l'elemento che mette in connessione, per esempio, le nostre attività emozionali con la nostra motricità. Allora, sì, eccolo qua, è il cosiddetto elemento affettivo-motivizionale del dono, cioè il fatto di muoversi, viene coinvolto il nucleo, il lobo dell'ingelo. Scusatemi, il giro cingolato anteriore, ok? Questa è un'altra immagine di fame e sete, sono sempre immagini relative al discorso che è il lobo dell'insula che si attiva, in questo caso il giro cingolato, il comportamento, e questo invece in pratica il lobo dell'insula, praticamente se c'è brurito, emozione meostatico e quant'altro. Allora, adesso andiamo verso la fase finale, c'è un aspetto che va in qualche maniera, come mi ha accennato. Allora, ci sono due aspetti fondamentali. Il primo è il concetto della cosiddetta rirrappresentazione. Chi di voi ha dimestichezza con Damasio, sa più o meno che Damasio spesso parla della rirrappresentazione e è bene che conoscerla, perché? Perché per esempio noi non possiamo confondere i fenomeni emozionali con i cosiddetti sentimenti, cioè i sentimenti possono attivare delle emozioni, d'accordo? Ma le emozioni, prima di diventare sentimenti, devono essere rirrappresentate. Quindi vuol dire che nel lobo dell'insula, per esempio, c'è una rirrappresentazione della porzione anteriore. Quindi come se ci fosse una sorta di, se andassimo su uno schema praticamente che noi ben conosciamo, cioè le cosiddette aree associative, penso alla corteccia che sta attorno, per esempio la V2 si chiama, che sta attorno all'area visiva primaria, quella è già un'area associativa. Quindi c'è un'area di rirrappresentazione del sistema nell'insula, nella zona dal posteriore verso l'anteriorità, e poi c'è un'ulteriore rirrappresentazione, però tutta quanta verso la parte anteriore del lobo dell'insula di destra. Quindi è come se il nostro elemento centrale, quindi l'emisfero dominante, come direbbe Craig, nell'ambito dell'interocezione, quindi dei sistemi emozionali, emozionali legati ad esempio al dolore o comunque al come stiamo, hanno come lobo dominante l'emisfero destro, a differenza invece di ciò che accade per le altre funzioni in cui il lobo dominante spesso è il sinistro. Ora, questo tipo di rirrappresentazione, secondo Craig, fornisce una cosiddetta immagine del sé fisico, come entità senziente, che dice Craig, caratteristica della coscienza umana. Quindi in altri termini, secondo Craig, questa rirrappresentazione a livello del sistema del lobo limbico, perdon, del lobo dell'insula di destra, questa rirrappresentazione è l'elemento anatomico che fa sgorgare in pratica la coscienza del sé. Cioè il fatto di sapere che io sono. Quindi è interessante questo aspetto perché ovviamente non stiamo dicendo che questo è la coscienza, è un'altra cosa. Però, qui noi abbiamo a che fare con l'elemento anatomico su cui poi i fenomeni di coscienza si possono poi sviluppare. Cioè attenzione, non confondere il lobo dell'insula con la coscienza. Il lobo dell'insula è l'elemento anatomico. È una condizione che serve poi a sviluppare la coscienza. Però, da questo discorso, se noi volessimo fare una sorta di piccolo ragionamento, uso una parola che non si può usare, filosofico, quindi vuol dire che noi siamo coscienti di noi stessi, cioè sappiamo di essere, in quanto funzioniamo. e questo è molto interessante perché vuol dire che in qualche maniera, e dico un'altra eresia, e forse c'è una ragione degli omeopati quando dicono che ad un sintomo corrisponde sempre a uno stato psichico. Se noi cominciassimo un attimo a osservarci meglio durante i nostri stati, per esempio, di malessere, la percezione del nostro corpo, del nostro sé, diventa completamente diversa rispetto, praticamente, a una condizione invece di altra natura, pur se ne esistiamo bene o se addirittura abbiamo delle stimolazioni sensoriali a tipo piacere. Quindi, vuol dire che questa coscienza deriva dal fatto di come funzioniamo. Quindi noi siamo coscienti di noi perché funzioniamo. E mi fa pensare praticamente a quell'immagine che Blacksmith utilizza quando descrive la cellula, il conceptus, la cellula, dell'uovo fecondato, che descrive questa cellula all'interno della capsula pellucida e comincia a dire che esiste una fluttuazione di fluidi che va dalla membrana plasmatica verso il nucleo passante per il citoplasma e un flusso che va dal nucleo passante per il citoplasma verso la membrana. Quindi questa sorta di microcircolazione. Quindi come questi fluidi che si muovono. Il metabolismo fondamentalmente è dato quindi dai sistemi fluidici che si muovono. Quindi noi siamo coscienti, noi sappiamo di essere perché abbiamo una condizione perché funzioniamo. Quindi non è che abbiamo bisogno di uno specchio per vederci, per sapere che siamo noi, ma noi sappiamo di essere noi perché funzioniamo. Tant'è che una lesione per esempio della sostanza reticolare, bulbo pontifrasingolare nella parte dorsale, parte posteriore, dà appunto il coma legislativo e reversibile in cui ovviamente lo stato di coscienza si perde completamente. Quindi questo è un elemento secondo me interessante anche perché poi ci fa pensare anche al fatto di come le malattie, di come le condizioni disfunzionali, come le alterazioni in relazione riportino anche delle modificazioni dello stato di coscienza. Probabilmente non lo possiamo stabilire in maniera molto dettagliata, però possiamo continuare ad entrare nell'ordine di idea che i nostri pazienti, noi stessi, abbiamo delle continue fluttuazioni dello stato di coscienza in base al tipo di informazione interociativa che arriva. Poi viene un altro aspetto, quindi, vabbè, questa è la, lo leggete, poi viene un altro aspetto, intanto attestiamo il fatto che, come dice Craig, che a livello talamocolotticale il sistema interocettivo è distinto da quello esterocettivo, rappresentato da corteccia rolandica a senso motore, cioè questa qui. Quindi per il sistema miostatico è possibile identificare una separata componente sensoriale del motore che sarebbe appunto lobo dell'insula e giro cingolato anteriore. Poi fa un'altra affermazione ma che abbiamo già fatto, è possibile identificare nella sensorialità legata all'interocezione l'afferenza periferica e centrale a lungo smarrita del sistema inferente autonomo. Cioè finalmente quello che Langley diceva non so da dove arriva l'afferenza è stato in qualche maniera messo in evidenza. Poi andiamo avanti e qui partiamo la fase due parole e finiamo. su un concetto molto interessante di asimmetria del nostro sistema cerebrale cioè del nostro sistema corticale. Dice Craig che il nostro sistema emozionale e centra diciamo forebrain quindi cervello anteriore e anche quello frontale ha una sorta di asimmetria di funzionamento e lui pone le basi neuroanatomiche come al solito quindi pone un problema di anatomia di questa asimmetria cioè che cosa vuol dire? Cioè lui dice che ad esempio la stimolazione del vago di sinistra in pazienti con depressione di epilessia attiva in modo primario l'insulo anteriore di sinistra le manipolazioni cardiospiratorie attraverso l'uso della manovra di Valsalva delle contrazioni sometiche dell'esercizio dinamico attivano in modo primario l'insulo anteriore di sinistra il gusto che rappresenta una modalità viscerale speciale associata al glosso faringeo e al vago è anche esso realizzato verso l'insulo anteriore di sinistra essendo consistente quindi con un ruolo cruciale nell'acquisizione di energia cioè funzione trofotropica del parasimbale che abbiamo detto fino ad adesso tutte queste descrizioni indicano che il nostro emisfero cerebrale sinistro sia sotto influenza di tipo parasimpatico quindi il nostro emisfero cerebrale sinistro ha più una funzione di tipo parasimpatico rispetto alle funzioni invece del destro dove per esempio varie modalità di afferenza miosteica attivano la corteccia posteriore contro l'oterale dell'insulo associato ad attività di afferenze simpatiche si attivano nell'insulo anteriore di destra quindi vuol dire che oppure le sensazioni termiche come il fresco e il caldo più intenso come il freddo il bollente il dolore muscolare uscirà il tocco sensuale l'eccitazione sessuale producono attivazione dell'insulo anteriore di destra quindi vuol dire che a seconda delle stimolazioni per esempio il battito cardieco potenziali evocati elettronencefalografici la conseguenza interocettiva del tempo del battito cardiaco correlabile alle differenze emostatiche simpatiche si materializzano nell'insulo anteriore di destra e cosa significa questo significa che a seconda della diciamo della natura se è prettamente di influenza orto o parasimpatica ci saranno delle risposte specifiche degli emisferi quindi potremmo dire che il nostro emisfero cerebrale secondo Craig il nostro emisfero cerebrale di destra sia sotto influenza orto simpatica mentre il nostro sistema cerebrale encefalico di sinistra l'emisfero cerebrale di sinistra sia sotto influenza di tipo parasimpatica e questo è un aspetto che secondo me è interessante considerando che molti degli studi che stanno che stiamo conducendo che anche altri conducono si basano per esempio sulla variabilità della frequenza cardia cioè la capacità di modificare le variabilità e quella è vero che indica una sorta di riequilibrio diciamo di attività orto e para ma spessissimo si manifesta attraverso un recupero di funzionalità di tipo parasimpatica quindi questo ci fa pensare anche che le connessioni tra i due emisferi cerebrali potrebbero essere praticamente in qualche maniera modificate in rapporto alle funzioni cioè se c'è un eccesso di funzionalità del sistema orto simpatico noi tendiamo a far sì che il nostro sistema emisferico cerebrale destro tenda a funzionare di più rispetto al sinistro e questo ovviamente può comportare sarebbe interessante vederlo in futuro degli studi per esempio tipo mi viene in mente con attività con delle analisi comportamentari la tendenza ad avere certi tipi di risposte comportamentari rispetto ad altre questo è interessante perché ci dà ulteriormente un'idea di come noi non possiamo più tanto dividere funzioni cerebrali e funzioni corporee ma quanto più sempre più riusciamo a comprendere che queste funzioni siano in qualche maniera tra loro connesse in maniera sempre più cioè tutti gli studi dimostrano che siamo sempre più integrati e quindi noi dobbiamo lavorare in quel senso online in quella diciamo direzione là e tra l'altro questa rirrappresentazione a livello delle attività monostali che si ratterizzano nell'insola anteriore di destra e di sinistra sono presenti come dice Craig esclusivamente nei primati umanoidici quindi nelle nostre sorelle scimmia e negli esseri umani quindi questo è qualcosa che secondo me su cui così non ho ancora chiarissime idee di come si potrebbe lavorare però è qualcosa che dobbiamo tenere in considerazione anche perché secondo me determinati tipi di diciamo fenomeni infiammatori malattie quello che volete poi determineranno anche delle modalità comportamentali diversifiche e io finisco ok posso fare una domanda dimmi in base a questo io sono Dario Bozzer in base a questo in base a questo quello che hai detto sulla sulla questione della dell'aspetto diciamo di lateralità se una persona ha delle problematiche emotive o quantomeno una diciamo afferenza emotiva importante è possibile che questo vada ad interferire su quello che sono le funzioni cardiache attraverso magari una fibrillazione atriale beh sì tutto è possibile questo sì sicuramente non mi ci sono tanto dedicato perché argomento abbastanza spinoso vero è che quello che abbiamo visto arrivare sulla corteccia poi comunque ha delle vite uscita cioè non è che l'uscita cioè per esempio l'amigdala è una tipica zona che è in rapporto alle funzioni del sistema per esempio del lobo dell'insula l'amigdala poi ha capacità di influenzare la funzione ipotalamica quindi è in grado per esempio di attivare una risposta ortosimpatica continua quindi è come se si creasse un continuum di attivazione ortosimpatica e lì ovviamente puoi creare le condizioni per un disturbo di tipo cardiaco quello che noi non sappiamo e che su cui dobbiamo stare attenti è diciamo mettiamo il fatto che abbiamo a parità di disturbo emozionale perché un soggetto ti fa un'ulcera gastrica e l'altro invece ti fa una fibrillazione ha un disturbo aritmico cardiaco perché poi il problema è tutto molto bello l'emozione tutto quanto però poi alla fine ci sono degli organi che si esprimono specificamente quindi la domanda che a volte mi pongo è come mai ci sono delle zone che ben che rispondono e altre che rispondono di meno questo fa parte della storia dell'individuo e spessissimo una buona dei buoni trattamenti osteopatici ricostruiscono queste storie insomma senza dire che ci abbiamo la verità in mano però il fatto di rivedere il paziente di controllare le relazioni che si pongono praticamente tra organi visceri e sistema introcettivo quello praticamente determina la possibilità di stabilire magari hai una gastrite perché quando eri piccolo hai avuto un rotavirus che ti ha dato una gastrite e quindi quello rappresenta il concetto della facilitazione quindi il sistema poi si esprime con un incremento di attività per esempio in quel caso ortosimpatica dove va a finire va a finire lì dove c'è il sistema la memoria come direbbe Cerverum praticamente e quindi lì la facilitazione si esprime a quel livello lì cioè non vorrei la cosa Dario quello che è importante è che non passi il messaggio che quell'emozione determina quel tipo di patologia no 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 cioè che non sia una linea continua e sempre per tutti uguale così esatto però questo sì che è un disturbo cioè che se io ho delle facilitazioni e ovviamente si aggiungono delle problematiche di tipo relazionale di tipo emozionale allora quello praticamente può determinare una risposta ma perché perché in realtà le nostre emozioni primarie sono quelle che arrivano dal corpo quello che è interessante ti dico ho avuto una una paziente con problematiche cardiache di fibrillazione e valutando gli archi branchiali come sappiamo diciamo nel secondo terzo archi branchiali si è migliorata la condizione sintomatologica quindi quello diciamo a livello embriologico per quello che ne sappiamo da un punto di vista diciamo di approccio di un certo genere e quindi lì si è creato lo spazio gli archi branchiali fosse cranica posteriore ci sono ci sono avuti delle buone esiti da un punto di vista osteopatico con un approccio di un certo genere si è creata la condizione di una diciamo modificazione in forma introgettiva esatto la cosa è che quando questa paziente aveva era sottoposta ad un carico diciamo allo stato importante emotivo si attivava appunto questa problematica cardiaca che adesso viene meno dopo il tratto osteopatico il problema è quello cioè che si modifica in pratica l'impatto sui fenomeni diciamo di facilitazione come questo avvenga noi non sappiamo perché ripeto secondo me lo studio dell'introgezione è estremamente importante per comprendere gli elementi praticamente di tipo diagnostico poco ci dice sugli elementi in pratica di tipo terapeutico lì secondo me dovremmo esplorare tutti altri tipi di campi sono tantissimi anche se ovviamente poi il trattamento determina una modificazione della funzione interocettiva ma non è attivando o spegnendo l'interocettione cioè non è che c'è questo concetto un po' da interruttore non è che io attivo non è così però poi dopo a posteriori il processo di integrazione che è tipico dei processi terapeutici osteopatici determina una modificazione della funzione interocettiva logicamente c'erano tanti fattori da considerare che noi appunto non sappiamo e possiamo vedere la globalità della condizione intesa dal punto di vista anche osteopatico e percettivo tattile come sappiamo di un certo genere ecco sì ti ringrazio molto grazie ciao Vincenzo sono Claudio Lopez ciao Claudio un saluto dal sesto anno innanzitutto intanto cambia quella cacchio di immagini che è una roba è la pena che ho trovato ed è inquietudine mi stai stimolando l'insula dai addirittura due domande la prima esistono degli studi che hanno sottolineato in ambito diciamo interocettivo una sorta di rieparazione clinica in senso che si verifica durante e dopo il trattamento a livello dello spazio peripersonale questo spazio peripersonale io non ho ben capito che cos'è se tu ne hai una definizione e se corrispondi in qualche modo al discorso che hai fatto tu sulla rielaborazione a livello del dopo dell'insula se c'è qualche connessione allora sinceramente la decidura peripersonale non la capisco manch'io ok però però quello su cui potremmo speculare tanto stiamo qua non ci sente nessuno e in effetti sì una rimodulazione della percezione del senso di coscienza mi viene in mente piuttosto questo che un altro insomma perché è evidente che la storia che dice vabbè dalla malattia poi dopo ci sono delle modificazioni certo ci sono delle modificazioni ma perché spessissimo queste modificazioni quante persone vengono da noi dopo aver fatto una malattia ne abbiamo tantissime che si sentono cambiati ma cosa è cambiato cioè noi dobbiamo cominciare a noi siamo i sindacalisti del corpo cioè siamo quelli che si devono interessare a partire dall'apparato muscolo-scheletrico poi tutte le altre strutture e dobbiamo cominciare a percepire i cambiamenti che si stabiliscono nel nostro corpo che poi sono in grado di mantenere eventualmente fenomeni anche di tipo emozionali io quando parlo di emozioni sono sempre un po' preoccupato perché nel nostro ambito facilmente c'è chi va a finire poi sui trattamenti emozionali e dice che è tutto emozionale sì ma per avere un'emozione ci vuole il corpo la parola emozione viene da emovere cioè dal movimento quindi per avere un'emozione devi avere il corpo se non c'è corpo non c'è emozione tant'è che lo stesso Damasio è riuscito a fare delle classificazioni ad esempio in questo periodo di coronavirus noi abbiamo il sentimento l'emozione più diffusa e la paura secondo Damasio la paura deriva da un abbassamento della funzione parasimpatica e da un innalzamento ma relativo del sistema ortosimpatico quindi in questo momento che cosa dobbiamo fare? Beh dobbiamo fare tutto ciò che è possibile per innalzare la funzione parasimpatica da esercizi respiratori a che ne so quello che volete inventiamoci quello che volete ma non è un problema di attivazione ortosimpatica quanto piuttosto seguendo quello che dice Damasio ma abbassamento della funzione parasimpatica c'è anche la secondare ora capisco un pochettino papà che mi chiedo la seconda domanda no era qualcuno che mi dopo non ci sono la seconda domanda è questa un altro studio su Trinia come anche nell'essere umano ci siano delle vie che a livello introcettivo saltano il nucleo parabrachiale e arrivano in qualche modo direttamente sul luogo dell'insula sul talamo sicuramente che vadano direttamente sull'obelivza non penso sul talamo sicuramente è impossibile che una struttura vada al di là del talamo ok quindi questo me lo confermi sì sì assolutamente ok perché dalle slide che avevi proiettato in qualche modo sembrava che il nucleo parabrachiale ci sono delle immagini che vanno nel nucleo parabrachiale altre che invece fibre che vanno direttamente sul talamo però quello che è interessante per noi sai qual è è piuttosto soffermarsi sul fatto che ci siano quelle connessioni sinaptiche sul sistema del tronco dell'encefalo perché significa che c'è già un sistema di autoregolazione prima che diventi di encefalico prima che diventi terencefalico d'accordo quindi è come se fossero dei sottosistemi che funzionano continuamente questo toglie un sacco di attività di necessità di funzionamento corticale che è meglio che si dedichi ad altro senti un'ultima mi dai un parere sul sensual touch perché molti diciamo libri che parlano della fascia e delle terapie manuali in qualche modo hanno esaltato come la presenza recettoriale nella fascia di queste libri dedicate legate al sensual touch possano in qualche modo rappresentare la chiave di comprensione di tutto gran parte quello che noi facciamo a livello manuale osteopatico e quant'altro e Claudio è il solito hai finito? si ti ho interrotto? si si no 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 vai vai il discorso è sempre quello no? la confusione tra io faccio dell'attività manuale benissimo ma la nostra attività manuale si basa su un fenomeno diagnostico e un fenomeno terapeutico allora quando mi si viene a dire è il sensual touch che ci fa avere dei risultati ma no nel senso che il sensual touch ti ha fatto mettere in evidenza il sensual touch vuol dire l'interocezione perché poi questo fatto di dire sia il sensual touch piuttosto che l'altro mi sembra una cosa abbastanza ridicola anche perché hai visto che tutte le informazioni vengono conglomerate non è che sono poi separate tra loro cioè diventano un aspetto introcettivo poi sicuramente la corteccia è in grado di distinguere così come per esempio la corteccia esteropropriocettiva sa quelle informazioni che arrivano dal muscolo piuttosto che quelle che arrivano dall'articolazione noi sappiamo quali sono le fibre più attivate però dire che il sistema del sensual touch a dare la possibilità di trattamento secondo me è uno schema estremamente riduttivo quello ci dà la possibilità di percepire invece ciò che accade a livello di agnostico cioè una modificazione dell'attività metabolica e questo è molto importante perché ci dà le basi per comprendere per esempio quando metti le mani senti qualcosa che i famosi criteri TART c'è una modificazione di stutare una qualità di stutare e su che base è? Allora su una base più o meno infiammatoria più o meno ma quella per avere per quel tipo di funzione c'è bisogno dell'innervazione se tu denervassi se tu togli praticamente l'innervazione di tipo introgettivo tu non hai più una risposta di tipo infiammatorio per esempio quelli che facevano la poliomedite praticamente poi non avevano nessun tipo di attività reattività di tipo infiammatorio sull'arto colpito e ovviamente hai altri tipi di problemi per esempio c'hai delle distrofie non c'hai più la capacità di regolarizzare però fenomeni infiammatori grossi in denervazione non ce ne hai ti ricordi l'esperienza che è descritta da Janig per esempio sul fatto che tu togli un ganglio vegetativo e attivi nell'animale da sperimento con la capsicina praticamente è una riduzione dell'infiammazione solo togliendo il sistema orto simpatico del 70% quindi è notevole nel corso quindi c'hai bisogno del sistema periferico del sistema introcettivo autonomo per stabilire fenomeni di modificazione metabolica che poi possono diventare il tipo di problematica ok grazie vincenzo vincenzo ciao pronto ti senti? non sento niente non ti sento hai tolto ancora? no ok adesso ti sento ciao mi chiamo Giuseppe avrei un paio di domande anch'io una cosa che ho letto che non ho ben capito sulle fibre A sostanzialmente nel senso che ho letto che le fibre A sostanzialmente riescono andando in contatto appunto col sistema limbico sono quelle che danno la vera e propria percezione doloritica la coscienza doloritica sostanzialmente no no quando dici parli di fibre A che intendi? quelle che hai classificato tu quelle che hai classificato tu quelle sul lobo limbico non ci vanno ok cioè ci vanno non ci vanno direttamente cioè la loro rappresentazione la loro punto di arrivo iniziale è tutto legato praticamente ovviamente al talamo ma poi va a finire nel giro post centrale quindi tutta roba di tutta roba di sistema estero proprio scettivo poi che attraverso la corteccia attraverso fenomeni cognitivi e di quello che vuoi quello sì certo però la rappresentazione del sistema di fibre A è assolutamente di tipo come si dice parietale tra l'altro quelle fibre lì non sono nude perché le fibre periferiche A hanno i trasduttori Pacini Messner Ruffini d'accordo quindi praticamente quelli non hanno possibilità di immettere sostanze in periferia perché le sostanze nutrizionali che loro producono praticamente sono fondamentalmente necessarie al loro trasduttore quindi non vengono immesse nei tessuti invece le fibre A delta e C immettono le sostanze nei tessuti per cui per esempio le famose sostanze P il polipeptide correlato al generale calcitonina tutto lo ritrovi nei tessuti periferici a partire da una conduzione antidromica del sistema delle fibre B ok tra l'altro ci sono anche degli studi di stimolazione del sistema A per vedere se avesse un effetto antinfiammatorio si sono dimostrati che non hanno capacità antinfiammatorie ecco perché dicevo quelli che dicono faccio ginnastico preocettivo per il mio mal di schiena in realtà non stai facendo ginnastica preocettiva stai facendo altro poiché il risultato ci sia questo non lo esclude però il sistema A non può essere reclutato per i fenomeni antinfiammatori scusami la seconda domanda che avevo sempre riguardo qualcosa che ho letto è che ci sono sistemi di fibre meccano cittrici che riescono a inibire le fibre C a livello della lamina 1 solo che non ho ben capito questo fenomeno come avviene allora questa è una roba allora se questa deve essere una roba un po' vecchia in cui si diceva che un'attività motoria moderata a volte era in grado praticamente di stimolare di inibire il dolore perifericamente in realtà probabilmente quel tipo di stimolazione delicata non va a attivare le fibre A ma va a attivare le fibre del sistema B e quindi attivando per esempio i processi antinfiammatori come è stato dimostrato in vari esperimenti tipo per esempio quello che è stato fatto da Sluca sui topini in cui praticamente si infiammava si creava un'infiammazione sulla caviglia si faceva una mobilizzazione tipo come se fossero le nostre tecniche a bassa velocità grande ampiezza cioè quelle articolari così si facevano dei cicli su questi topini sul ginocchio e si otteneva un effetto antinfiammatorio quindi ma lì è il sistema B che viene a essere coinvolto perché poi l'attivazione hanno scoperto era di serotonina che era discendente e andava ad attivare delle risposte e andava a modulare la risposta della lamina 1 e quindi addirittura l'inibizione della secrezione di sostanze proinfiammatorie perifericamente attraverso le fibre dei gangli perché ovviamente il ganglio è influenzato anche dalla lamina 1 ovviamente c'è una sorta di connessione tra le varie strutture Buongiorno Buongiorno posso fare una domanda prima abbiamo parlato del fatto che anche a livello dell'insula ci sia in qualche modo un'informazione somatotropica Sì Siamo ai primordi Siamo ai primordi Esatto questo che che prospettive ci dà a livello di trattamento manuale osteopatico? Boh non lo so non ho idea non ho idea perché io cioè più passo del tempo è più l'impressione che il nostro trattamento centri poco quei fenomeni neurologici nel senso che allora se noi volessimo strutturare un individuo d'accordo? per esempio tu prendi una cellula per esempio gli esperimenti standard ce lo dimostrano che se tu prendi dei fibroblasti e li sottoponi quindi fibroblasti isolati di cellule umane quindi non c'è sistema nervoso quei fibroblasti se sono stimolati meccanicamente in una certa direzione vanno incontro a fenomeni di tipo infiammatorio però ci mettono delle ore addirittura producono interleuchine ma ci mettono le ore a farlo mentre se ti fichi una puntina da disegno in un alluce non è che ci vogliono le ore a sentire il dolore che esplode quindi vuol dire che certe strutture tipo il sistema nervoso è come se accelerasse tutti i fenomeni e ci permettesse in pratica di essere in rapporto molto più rapido con l'ambiente ma questo significa che però di fondo esistono degli elementi di funzionamento che sono sempre che come direbbe blacksmith sono encaptici cioè che si ripresentano per cui secondo me i nostri sistemi di trattamento sono più registrati dal sistema nervoso che non attivati dal sistema nervoso cioè che ne so mi viene in mente ci sono degli studi di pop e qui andiamo veramente sul coso andiamo veramente sull'eretico pop era un fisico e c'è un bel articolo scritto anche da Del Giudice in cui si vedeva come l'utilizzo della moxa per esempio su punti di agopuntura faceva emettere delle particelle che si chiamano solitoni ma non nella zona di attivazione della moxa ma praticamente in zona distante e quindi che cosa significa questo? Significa che hai un fenomeno di integrazione cioè il sistema comincia a funzionare come se fosse un tutto uno come direbbe still body is a unit questo tutt'uno però noi per andarlo ad interpretare perché purtroppo quando andiamo a fare una diagnosi andiamo a fare delle rotazioni segmentali abbiamo bisogno del sistema praticamente nervoso per poterlo interpretare quindi spesso noi confondiamo il fenomeno con il misuratore del fenomeno come se dicessimo che il frutto della febbre è il termometro ma non è così non so se ti ha risposto ma è semplicemente questo è qualcosa che dovremmo cominciare a condividere da un punto di vista palpatorio grazie quello che mi chiedevo in realtà è se poi i nostri trattamenti sulla base di queste nuove ricerche possa dividerlo ancora più specifico nella stimolazione di una certa zona che attiva a livello insulare la corteccia somatotropica cioè insulare e che quindi si abbia una risposta di una risposta dovremmo essere sempre più efficienti e è proprio questo che dico che assolutamente no no Gaia perché è proprio il contrario è proprio il contrario ci dobbiamo allontanare mentre nel trattamento mentre nella diagnosi dobbiamo diventare sempre più specifici allora quello che dici tu può valere soprattutto in un principio diagnostico dermatomeri sempre più specifici sempre più piccoli sempre più piccoli ma poi nel sistema del processo terapeutico in realtà noi abbiamo proprio esattamente bisogno del contrario abbiamo bisogno dell'integrazione se il concetto è cercare la salute nella salute c'è un principio di integrus cioè di tutt'uno quindi in realtà il processo terapeutico va proprio al di là dello specifico va in realtà perché se no qui entriamo Gaia nel quel discorso del diciamo nel come si chiama della della oddio della pallottola magica abbiamo bisogno della pallottola magica che è quella che va proprio in quel punto è un discorso meccanicistico ed è in pratica facente parte di una sorta di fisica che è la fisica dei sistemi lineari che poco hanno a che fare con i sistemi di salute noi i nostri processi terapeutici hanno a che fare con i sistemi complessi cioè la capacità del sistema di rispondere stimolata in un punto rispondere nell'insieme ora andare a dire che è quello lo specifico punto che ti attiva nell'insieme in tutti noi con le nostre differenziazioni è una chimera cioè andremmo a linearizzare qualcosa che invece è complesso grazie vincenzo buongiorno a tutti oiaiaiaia ue 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 ascolta a parte che sei sempre il solito grande ascolta ti volevo chiedere una cosa se possiamo interpretare alla luce di quanto riferito su recettori eccetera compreso il gusto di cui avevi accennato il fatto che con l'infezione da coronavirus abbiamo spesso viene riferito dai pazienti che c'è questa assenza di gusto comunque una grossa modifica del gusto come possiamo interpretare se possiamo interpretare se possiamo avere diciamo un accesso alla conoscenza di questa strana sintomatologia che per un virus non è poi sempre così evidente la prima cosa che mi viene in mente è che ci sia un coinvolgimento praticamente delle mucose nasali e quindi orofaringe che in qualche maniera vanno a intaccare le funzioni glosofaringe del faciale e quindi perciò c'è anosmia perché spesso è anche l'anosmia e ipogusto penso che sia qualcosa di periferico però il vero è che poi diventa un po' troppo persistente e in più quello poi si va a complicare con altri fenomeni infiammatori diciamo periferici che forse diciamo che su stacacchio di infezione forse non è che sappiamo molto è un'impressione che ci siano fenomeni infiammatori un po' più forse meno specifici e un po' più come si dice tu non sai meglio di me sono quasi quelli di immunità di base risposte quasi a specifiche non so penso considerando l'anatomia probabilmente sono le mucose periferiche oro faringei che praticamente vengono a essere coinvolte per cui c'è questo sintomo un po' particolare persistente poi ci sarà dell'altro ma io purtroppo non ho questa risposta le citochine quindi potrebbero essere alla base e quindi tutta la cascata infiammatoria che può creare un'irritazione in quel senso e quindi la trasmissione anche attraverso i recettori ma sarà da vedere quanto tempo questi ci metteranno a recuperare l'olfatto e il gusto perché se ci mettono tanto tempo vuol dire che hanno proprio distrutto i filamenti periferici e quindi quelli hanno bisogno dei tempi di recupero è come se fosse un axon otto mesi un danno del nervo un'interruzione ok grazie bene se non c'è più domande ci aggiorniamo grazie grazie a tutti grazie Vincenzo grazie Vincenzo ciao 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 grazie 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 ciao che forza mi piace la barba la barba come la taglio complimenti 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 sei il migliore grazie 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 preghe da tutti grazie ciao vince grazie we we Ciao Vincenzo, complimenti, sono Pietro, Marino, ciao! Ok. Ciao Simo, ciao dove sei? Sono a Parma, c'è? Ma chi sei? Sono la Georgia. Ciao Jo! Ciao. Ciao Bella! Sono a Parma con i miei. Ah ok, ok. Ho provato a connettermi ieri, non hai fatto una lezione o qualcosa? Sì! Non ce l'ho fatta, non ho capito come si faceva. Cavolo, mi dispiace. Sarebbe stato interessante, però ho provato mille volte, però poi non ce l'ho fatta la prossima volta. Prossima volta, dai Jo! Un bacione, non infasiamo la chat dell'Advance. Appunto! Ciao! Ciao! Ciao ciao! Un bacio! Anche a te! Ciao! 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 Ciao ciao! Grazie a tutti